Ora magari non è stata così lì già? Vorrei dire questo, noi partiamo da un criterio molto semplice che è quello appunto di rafforzare le tutele per i cittadini, evitando però che questo sistema in qualche modo comprima l'autonomia della magistratura, comprima la facoltà di interpretare liberamente la legge da parte della magistratura, che è una delle condizioni fondamentali per non avere un conformismo giudiziario. Cioè noi non abbiamo bisogno di giudici che facciano quello che fanno tutti gli altri loro colleghi, abbiamo bisogno di giudici che sappiano applicare e quindi che si adeguano a quella che è l'orientamento prevalente, abbiamo bisogno di giudici che siano in grado di applicare la legge al caso concreto e in questo senso il sistema credo che abbiamo trovato che amplia la responsabilità dello Stato, ma circoscrive la responsabilità del giudice soltanto quando c'è una negligenza inescusabile, penso risolva questa esigenza di contemperare interessi di carattere diverso. Questo vale tanto di più nel momento in cui con una normativa assolutamente ficcante ed efficace estendiamo il potere di indagine e di intervento della magistratura, nel senso che la magistratura con la nuova normativa anticorruzione, pensiamo all'introduzione del reato di autoriciclaggio che è già stato introdotto, pensiamo alla reintroduzione del falso in bilancio, pensiamo alla confisca per sproporzione che è la possibilità di aggredire anche patrimoni che sono passati di mano da chi li ha accumulati in modo illecito. Tutta questa normativa sicuramente estende la responsabilità e quindi il ruolo, la funzione, la possibilità di intervento della magistratura. E' importante che a questo si accompagnino anche degli elementi regolatori che disciplinano, da un punto di vista disciplinare c'è già un funzionamento importante dell'attività del CSM, ma dal punto di vista della responsabilità civile che accompagnino appunto questo ruolo rafforzato della magistratura conferendo alla magistratura stessa più trasparenza, più possibilità di isolare episodi che considero circoscritti di cattiva amministrazione della giustizia stessa. Grazie.